Buongiorno a tutte le colleghe, a tutti i colleghi. Fra le numerose disposizioni che sono state varate a supporto della dinamica degli ultimi tempi che ha certamente penalizzato molte imprese, una che credo meriti oggi una certa attenzione è l'ACE, ovvero il cosiddetto aiuto alla crescita economica. Lo spirito di questa norma è legato alla agevolazione che vuole essere data ai soggetti IRS e alle imprese individuali o di persone in contabilità ordinaria, qualora queste ricevano dai soci degli apporti a titolo di capitale. Il meccanismo infatti genera una sorta di onere deducibile dal reddito di impresa pari al coefficiente di rendimento figurativo che questi capitali potrebbero avere. Non a caso il coefficiente sino ad oggi è pari all'1,3%. Il punto di attenzione tuttavia è nella cosiddetta superACE, ovvero la disposizione contenuta nell'articolo 19 del decreto legge sostegni bis, il decreto 73-2001, che sostanzialmente consente per il solo esercizio 2021 di poter beneficiare di un coefficiente decisamente superiore e pari al 15% delle somme che vengono apportate a titolo di capitale, ovvero degli incrementi di patrimonio netto derivanti sia da rinuncia da parte dei soci a crediti per finanziamenti da loro stessi effettuati alla società, sia per utili destinati a riserva. Teniamo presente che la disposizione è ancora in fase di conversione. Un primo ramo del Parlamento ha proprio pochi giorni or sono approvato il testo senza modifiche, quindi è facile prevedere che questo possa significare una veloce trasformazione del decreto in legge. La norma è importante perché consente non solo di creare un onere deducibile dal reddito d'impresa, ma anche di poter trasformare, qualora vi sia incapienza rispetto al reddito, detto beneficio in un credito d'imposta, credito che viene generato sulla base del coefficiente applicato ai conferimenti di capitale effettuati e poi trasformato in imposta sulla base delle aliquote vigenti al 31-12-2020. Ricordiamo ancora che le somme apportabili sono limitate a 5 milioni di euro, superati i quali però ritorna l'ACE al tasso di remunerazione ordinario dell'1,3%. Mi pare una disposizione agevolativa interessante e applicabile in modo abbastanza semplice a tutti coloro che hanno la possibilità di farlo. Grazie